Buona giornata amici, il canto del gallo ci annuncia una nuova giornata, oggi è venerdì 30 luglio 2021, siamo ormai alla fine del mese, credo che non ci sia niente di meglio che iniziare una giornata con la lettura dei giornali E' quello che faremo a partire dal resto del Carlino e dal Corriere Adriatico Ma prima vediamo il santo del giorno e il meteo Il santo del giorno è San Pietro, detto crisologo San Pietro era vescovo di Ravenna, visse nel quinto secolo, diciamo così, dopo Cristo E' detto crisologo perché aveva una eloquenza quando catechizzava, quando predicava Che faceva sì che le sue parole fossero d'oro, appunto crisologo Parla come fosse oro E vediamo ora il tempo La piantina del meteo è la fotocopia di quella di ieri Abbiamo il sole sia nell'entroterra che nella costa E quindi sarà una giornata calda uguale a quella di ieri E ieri era veramente una giornata calda I venti sono moderati e quindi godiamoci ancora questa estate Magari con un po' di fresco al mare, chi se lo può permettere Ed ora vediamo la lettura dei giornali A partire dal resto del Carlino sulla pagina di Pesaro Dove si riassumano nella prima pagina le notizie che vengono poi approfondite all'interno Vediamo subito il titolo di apertura Si parla di viabilità Panoramica estate con gli autovelox E' il titolo appunto che appare in grassetto sulla prima pagina del Carlino E verranno posizionati ad agosto e settembre dei multavelox per tenere sotto controllo auto e moto Vedremo poi di chi è questa iniziativa A Quedotto servono 40 milioni dopo la rottura dei giorni scorsi Baia Flaminia scattano Vi faccio vedere ecco il fondo pagina Baia Flaminia scattano le cene ad alta quota E' un'iniziativa Da oggi domenica il Dirner in the Sky E poi ancora le elezioni a Fossombrone Massimo Berloni rompe gli indugi Ed è scovato dalla finanza per quanto riguarda la cronaca Un uomo che incassava il reddito di cittadinanza Nonostante che avesse avuto una grossa vincita E vediamo subito le notizie all'interno Vengono approfondite le dichiarazioni per quanto riguarda la manifestazione contro il vaccino Dei giorni scorsi nella città di Pesaro Che hanno portato i manifestanti sotto la casa del sindaco Ricci Novax sotto casa Querelo tutti ha detto il sindaco di Pesaro Ma la polizia doveva fermarli E per questo ha fatto un esposto anche al ministro dell'interno Lamorgese Ricci attacca dopo la manifestazione Quello è squadrismo ha detto Ma non pensino di intimidirmi Ordine pubblico sotto accusa Il sindaco scrive al ministro Deciderà i provvedimenti E per quanto riguarda questa iniziativa del sindaco di Pesaro Vediamo che reagiscono i sindacati Il SILP Ordine pubblico Accuse ingiuste Il SILP CGL Bravi colleghi a gestire la piazza E intanto però le indagini proseguono Per cui molti manifestanti sono stati individuati Grazie ai video E già sono scattate le prime denunce Vediamo qui una fotografia scattata Dalla finestra della casa del sindaco In cui si riconoscono molti manifestanti Ma non si sa ovviamente Se questi sono da mettere sotto accusa o meno La protesta infatti era autorizzata Ma non il corteo Che poi ha portato un centinaio di persone Sotto l'abitazione di Ricci La questura ha dichiarato Sono in corso ulteriori accertamenti Da parte della DIGOS Attraverso foto e filmati Per identificare gli autori E poi la solidarietà di Ricci E trasversale anche alla Camera Ci sono tantissime persone Che hanno inviato una lettera di solidarietà A partire dal presidente della Camera Roberto Fico Da Raffaele Volpi della Lega Il quale nelle definire inaccettabile Quando venuto Ha osservato che gridano Alla dittatura sanitaria Ma poi si comportano da squadristi Altri esponenti Che hanno manifestato La loro solidarietà al sindaco Sono Giorgio Girelli Esponente della cultura Membri del governo Come la ministra per gli affari regionali Maria Stella Gelmini Il ministro degli estri Luigi Di Maio Il segretario Dem Enrico Letta Giovanni Gostoli Deborah Serracchiani Alessia Morani Rossella Acoto Anna Ascani Roberto Gualtieri E tanti tanti altri Giriamo pagina E vediamo ora Il problema Il problema di viabilità Richiamato sulla prima pagina Scatta sulla panoramica L'ora degli autovelox Saranno installati ad agosto A settembre Il presidente Paolini L'iniziativa è della provincia Per la sicurezza fondamentale E abbattere la velocità Di macchine e moto Ha dichiarato E Paolini Fa riferimento Alle numerose curve Che caratterizzano un po' Il percorso Della panoramica Sul San Bartolo All'altezza delle quali La visibilità È ridotta Ci sono poi anche molti Attraversamenti a raso Per cui la strada È veramente pericolosa Ed eccedere nella velocità Costituisce un grande pericolo I danni sulla rottura Dell'acquedotto In merito Alla rottura dell'acquedotto Che si è verificata Nei giorni scorsi Poco dopo Cucurano È l'acqua che porta Quella del Metauro A Pesaro Acquedotto da rifare Servono 40 milioni Ranocchi De lato Lato è l'autorità D'ambito Fa la richiesta Di finanziamenti Inoltrata da era Per la sostituzione Delle reti Inevitabile L'aumento Delle tariffe La speranza È ora di attingere Ai fondi Del piano nazionale Di ripresa E di resilienza Probabile Un'apertura breve Del pozzo Del Burano Una iniziativa Questa Che provoca Sempre delle polemiche Bisogna comunque Rinnovare Lo zoccolo duro Cioè La rete In se stessa Poi sostituire Ogni anno Un tot Di tubi E veniamo Alla cronaca Maxi vincita Ma prende il reddito Di cittadinanza Aveva portato A casa Ben 232 mila euro Continuando però A incassare Il sussidio Del governo Scovato Dagli uomini Della guardia Di finanza È stato segnalato Alla procura Per avere Indebitamente Percepito Erogazioni A danno Dello Stato Sia dell'Inps Competente E poi Anche per la revoca Del sostegno Del sostegno Ed il recupero Della somma Complessivamente Incassata Sono 6500 euro Che dovrà restituire Altra notizia Di cronaca Picchia la ex Davanti al tribunale Intervengono Altri due Botte E caos E beh Un fatto Di rilievo Quello accaduto Nel piazzale Antistante Il tribunale Di Pesaro Piazzale Carducci Nella giornata Di ieri Tre uomini Di nazionalità Marocchina Tutti tra i 25 E i 38 anni Hanno incontrato Una ragazza Di Tavuglia Che era Una ex Di uno Dei tre Del gruppetto Uno dei quali Però era Mezzo ubriaco Fatto sta Che quando Uno Si è messo A picchiare Quasi a freddo La sua ex Fidanzata Probabilmente Per ragioni Legate ai loro Trascorsi E gli altri due Sono messi Di mezzo E quindi Scatorita Una rissa Ed è partita Subito La denuncia Il film Su Tonino Benelli Sbarca A Venezia Il titolo Che appare Sulla pagina 9 Del resto Del Carlino La pellicola Girata in città Sarà presentata L'11 settembre Alla mostra Del cinema Come evento Speciale Delle giornate Degli autori E una Prestigiosa Vetrina Questa Per la storia Dell'ultimo Rampollo Della celebre Famiglia Del Leoncino La famiglia Che ha Così Realizzato Tante Tante Motociclette E veniamo Alla pagina Di Fano L'esercito Verde Si mobilita Difesa Dei Lecci L'abbattimento Dei Lecci In piazza Marcolini Rappresenta Un caso Che ha assunto Una rilevanza Forse un po' Spropositata Comunque Associazioni Esponenti Della sovrintendenza E professionisti Scrivono a seri Stop Al taglio Delle piante Secolari Quegli alberi Non sono Irrimediabilmente Danneggiati Stanno dichiarando Anche se Il progetto Di arredo Della piazza Prevede il loro taglio E la loro sostituzione Con piante Meno invasive Che poi Necessitano Di minori cure E fanno sì Che poi I tagli Continui Non vadano A discapito Della salute Della pianta stessa Come sta avvenendo Per i Lecci Esistenti Festa del mare Ridotta Ma L'emozione Resta Niente fuochi D'artificio Quest'anno Un peccato Niente stand Gastronomici La scaletta Del programma Tutta concentrata Nella giornata Domenica Ma anche sabato Non mancheranno Manifestazioni Infatti sabato Alle ore 19 Alla cavea Del Lido Sabato domani Mi riferisco Con i laboratori Dei bambini Sulla conoscenza Del mare Poi alle 21 Nella tensostruttura Nel piazzale Del monumento Ai caduti Del mare Ci sarà Una lettura Di poesie Invernacolo Fanese La proiezione Del film Pesca mare Di Lodovichetti Un bellissimo Docu film Che rileva Valorizza Ed evidenzia La vita Dei pescatori Giriamo ancora Pagina Un cimitero Tropicale Il disordine Avanza E quello Dell'olivo Piante Lussureggianti Invadono Gli spazi Del parcheggio E nel campo Degli inde Composti Croci Senza nome Gettati Nel fango E la fotografia Pubblicata Dal Carlino È veramente Significativa Ed esolante Mozione Aset Trattativa Ad oltranza Per l'accordo Oggi Consiglio Comunale E l'argomento Principe In discussione E quello Del futuro Dell'Aset Direi Sempre Quello Del futuro Dell'Aset In vista Del consiglio Di stasera Nel PD C'è stata Una grande Discussione Futuro Democratico Rimarca La differenza Con il gruppo Idem Servono Partner Affidabiti Una Trattativa Ad oltranza Quella che ha Preceduto La seduta Di oggi Ci sono Dichiarazioni Da parte Di diversi Esponenti Democratici Che si riconoscono Nell'area Di futuro Democratico Come il Vice sindaco Cristian Fanesi I consiglieri Enrico Niconelli Enrico Fumante Federico Perini Che sottolineano La loro Diversa Posizione Sull'Aset Rispetto Al gruppo Dei Dem Quello Un po' Che fa Riferimento A Renato Claudio Minardi Giriamo Ancora Pagina E vediamo Una notizia Di Pergola Valrea Cascata Secco Prima Del restauro La regione Avvierà I lavori Per ripristinare Porzioni Del luogo Naturale Danneggiate E verrà Deviato Provvisoriamente Anche Il corso Del fiume E' uno Stupendo Paesaggio Quello Caratterizzato Dalle cascate Di Valrea Lungo il fiume Cesano Nel territorio Di Pergola E quindi Vediamo Qui L'assessore Francesco Baldelli Davanti Alla cascata Ha dichiarato Per la fine Del prossimo Autunno Questo Bellissimo Angolo Tornerà A risplendere Fano Jazz Dei ragazzini Concerto Live Per 49 L'esibizione Domani Alla Rocca Malatestiana Vengono Da tutte le Marche Dalla Romagna Questi ragazzini E hanno Tra i 7 E i 18 Anni Alcuni Non sono Tanto Ragazzini Ma il fatto Che il Jazz Piaccia anche I ragazzi In tenera età Fa insomma Così Desta Curiosità Perché una volta Il Jazz Era un Patrimonio Diciamo così Per pochi Adetti E questo progetto È inserito In un progetto Nazionale E vediamo D'Urbino Forzato all'ingresso Di Palazzo Passionei Il personale Ha notato Che il ferro Di fermo Era stato Piegato All'interno C'è un importante C'è un importante Patrimonio Librario Indagono i carabinieri Tra il patrimonio Librario C'è anche la raccolta Dell'eredità Del magnifico Rettore Carlo Bo Non sembra Comunque Leggendo l'articolo Che siano stati Asportati Dei beni Preziosi Carrese Ispettore Di gara Vicepresidente Della regione Che si occupa Di economia Mirko Carlone Ed ora Vediamo Il corriere Adriatico Salto la prima pagina Perché i richiami Sono sempre Gli stessi Di quelli Di cui abbiamo Parlato Ma diamo un'occhiata Invece All'andamento Dell'epidemia A livello Ragionale Ragionale Vaccini Per altri 35.000 Un camper Dopocena Sarà anche Algembori Di Senigallia Il confronto Sul giorno prima Quello che è Capitato Nella giornata Di ieri I casi positivi Sono aumentati Di 101 I ricoveri In intensiva Sono rimasti Invariati I ricoveri In semi Intensiva Più 1 I ricoveri In interno Più 3 Il totale Più 4 Sono stati Dimessi Gli stessi Pazienti Del giorno prima Il totale Dei tamponi È stato Di 2.762 Per fortuna Non si è verificato Alcun decesso E poi c'è Una dichiarazione Dell'assessore Latini Io Dice Non obbligherei I docenti Quarantene Penso di no Niente siero Per i miei figli L'assessore Latini Con il 90% Dei docenti Protetti Dice che Il problema Non sussiste Ebbene Sono diversità Di opinioni Che si alternano Continualmente Nei giornali Su Pesaro Da Letta A Fico A far quadrato Non solo Il PD I fatti accaduti A Pesaro Sono quelli Della manifestazione Novax Oppure No Tampone Diventano Un problema Nazionale Tanta indignazione In generale Condanna Ma poche Soluzioni E poi Vediamo ancora La fotografia Di Tiveroli Che è l'amministratore Delegato Di Marche Multiservizi Che caratterizza E segnala L'articolo Sul futuro Delle condutture Dell'acquedotto Pesarese L'acqua È il problema Del futuro Afferma Ma adesso Occorre decidere L'AD di Marche Multiservizi Dopo la rottura Che ha lasciato A secco Pesaro Rilascia Una intervista Che è interessante Leggere E poi Vediamo anche La fotografia Del presidente Della provincia Giuseppe Paolini Stoppa le corse Sulla strada panoramica Autovelox Sperimentali Sul San Bartalo La provincia Dispone controlli Della velocità Ad agosto E settembre Nel tratto Tra Pesaro E Gabicce Attenzione dunque Perché poi Le multe Sono particolarmente Ingenti Vinceva Scommettendo Al gioco Ma percepiva Anche il sostegno I finanzieri Scoprano E denunciano Un altro furbetto Del reddito Di cittadinanza E poi Vediamo anche Quell'annuncio Degli stati generali Dell'artigianato Sugli obiettivi Della ripartenza Al palazzo Dei principi Di Carpegna Uno stupendo palazzo Che domina E rileva L'importanza Che la località Dell'entroterra Aveva assunto Nei secoli passati Al palazzo Dei principi Di Carpegna Che ospita Anche la mostra Mercato Continua dunque La politica regionale Di sostegno All'artigianato Marchigiano E dopo l'approvazione Della legge Sull'artigianato A Carpegna La prima edizione Degli stati generali In programma Oggi alle ore 16 A palazzo Dei principi Insieme all'evento Eccellenza palazzo Prima edizione Della mostra Mercato Dell'artigianato Artistico Delle Marche Che si svolgerà Il 30 Cioè oggi Il 31 luglio E il primo agosto Contribuiranno A dare un segnale Di ripartenza A tutto il sistema Economico Marchigiano Lo speriamo Vivamente Ed ora Diamo un'occhiata Anche alle notizie Sportive Vediamo Che Il fano Calcio È ancora All'attenzione Della stampa Ma non solo Ancora Non si sa Se la squadra Granata Riuscirà A disputare Il campionato Di Serie C Ma ancora Sembra che ci siano Nuvole Sul passaggio Di proprietà Lo scrive Silvano Clappis Questa mattina Sul resto del Carlino Alma Ancora Non ufficiale Il passaggio Di proprietà Mario Alessandro Russo L'imprenditore Casertano Nel campo Della sanità È già stato Diverse volte A Fano Ma il discorso Non è stato Ancora Formalmente Chiuso E a distanza Di un mese Dall'accordo Per il passaggio Di proprietà Dell'Alma Dalle mani Di Enrico Fatto Fidani Di cui Viene pubblicata Una foto E quelli Di Mario Alessandro Russo Non c'è stata Ancora L'ufficialità Il 43enne Imprenditore Casertano Nel campo Della sanità È già venuto Diverse volte A Fano Ma l'assenza Di notizie Sta a indicare Che ancora Il discorso Non è stato Formalmente Chiuso Bispesaro Sono gli ultimi Momenti Del ritiro Dopo 11 giorni Di allenamenti Mister Banchini Ha inquadrato I 31 giocatori A sua disposizione Sei dei quali Della primavera L'uso Del video Questi giorni Precampionato È continuo Per studiare Tecniche Strategie Insomma Elaborare poi Gli schemi Sul campo E vengono Poi redatte Dettagliate Relazioni Tecniche Del match Analyst Da parte Del match Analyst Ivan Brocchieri Insomma Si studia Si fa Strategia E si fa Allenamento Ultimi giorni Di ritiro Per la vis Pesaro A Chianciano Sudore Ha cresciuto Anche dall'AFA Immaginate Cosa vuol dire Allenarsi In questi giorni Di grande Di grande Caldo Ebbene Con questa notizia Chiudiamo La nostra Rassegna stampa Massimo Foghetti Vi saluta Vi dà appuntamento Nella giornata Di domani Per la lettura Ai giornali Ma la cronaca E le notizie Torneranno Questa sera Su Fanno TV Alle ore 20 e 30 Buona giornata